Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato Tg. Un carabiniere che fino a pochi giorni fa era in servizio al comando provinciale di Prato è stato arrestato questa mattina con l'accusa di aver partecipato alla rapina in una villetta nella zona di Galciana. Un altro suo collega era stato arrestato a dicembre con altre sei persone. Facciamo il punto nel servizio di Nadia Tarantino. C'era un altro carabiniere nella banda che lo scorso maggio ha messo a segno una rapina nella casa di un imprenditore cinese ma che da tempo progettava il colpo della vita, quello a un portavalori, che se fosse andato in porto avrebbe fruttato qualcosa come un milione di euro. Oggi è finito in manette il brigadiere Giuliano Rosa, 54 anni, per anni in servizio al nucleo radiomobile di Prato e da pochi giorni trasferito a Firenze. Sono stati colleghi del nucleo investigativo a notificargli l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, chiesta e ottenuta dai sostituti Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi. Anche per lui, come per l'appuntato Ennio Serino, 36 anni, uscito pochi giorni fa dal carcere militare di Santa Maria Capo Avetere, messo ai domiciliari, l'accusa è concorso in rapina pluriaggravata. Con l'arresto del brigadiere Rosa sale a sette il numero degli indagati. I primi a finire in carcere furono tre campani di afragola ritenuti gli esecutori materiali della rapina, poi altre indagini fino all'arresto dell'appuntato Serino e di due venditori ambulanti di frutta e verdura nella zona del macrolotto Zero. C'erano una serie di spunti che portavano a ipotizzare la presenza di un ulteriore carabiniere con funzioni di palo, supporto nel giorno della rapina. Poi la svolta è avvenuta dalle dichiarazioni del militare già arrestato, che ha trovato questi elementi di riscontro che in un certo senso erano già acquisiti. I due carabinieri sarebbero stati i basisti della rapina, i frutti vendoli avrebbero individuato la vittima da colpire e contattato gli esecutori materiali. Nella casa dell'imprenditore a Galciana, il giorno in cui i trasfertisti campani si presentarono con una pettorina dell'arma, con un finto mandato di perquisizione, e con una pistola vera o giocattolo non è mai stato accertato, ci dovevano essere tra gli 80 e i 100 mila euro, ma ne furono trovati solo 11 mila. Uno scarto così ampio tra la previsione e la realtà che nel gruppo nacque qualche discussione appianata forse dal fatto che il progetto di mettere a segno l'assalto al portavalori non era mai tramontato. Un assalto che avrebbe cambiato la vita di tutti, che per i due carabinieri avrebbe rappresentato la svolta, il salto di qualità nella scala sociale. Quando sono coinvolti i militari dell'arma dei carabinieri, cui tutti vogliamo tanto bene, a cui tutti siamo affezionati, diciamo il dolore particolare. È partito da un caricabatterie, è attaccato anche una vettura all'incendio scoppiato questa mattina in un garage in via Marengo al soccorso. L'allarme al 115 è scattato attorno alle 12, sul posto è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco del comando di via Paronese. Le fiamme sono state prontamente domate, non si segnalano feriti, ma il caricabatterie è andato distrutto e ci sono danni ingenti anche all'auto contenuta all'interno del garage. Parliamo ora di coronavirus. Cominciamo dal bilancio delle ultime 24 ore. Due nuovi contagi e purtroppo c'è un morto, morto che porta a 41 il bilancio dei decessi a Prato e provincia dall'inizio di questa emergenza, mentre i casi positivi, i contagi, sono 517. Sentiamo Nadia Tarantino. Un decesso, quello di un ex assicuratore, due contagi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato, è il dato che si ricava dal bollettino regionale sull'andamento del coronavirus diffuso oggi. I morti dall'inizio dell'epidemia sono 41, i contagiati 517, numeri che non si discostano da quelli degli ultimi giorni e che indicano un deciso freno ai contagi che non riguarda solo l'area Pratese, ma tutta la Toscana, dove da ieri si contano 61 nuovi casi e 16 decessi. Complessivamente sono 9.292 i casi di positività e 827 i morti. Già da diversi giorni il resoconto quotidiano della regione invia segnali di speranza dopo settimane di buio totale. E i segnali di speranza non stanno solo nel rallentamento dei contagi, ma anche nel costante aumento delle guarigioni. In appena 24 ore se ne sono registrate altre 278 che portano il totale a 2.802, diviso tra pazienti clinicamente guariti, e cioè divenuti asintomatici dopo le cure, e pazienti che invece sono del tutto guariti dall'infezione. Altro dato confortante è quello relativo ai ricoveri. 148 pazienti in meno negli ospedali, dove i letti covid occupati sono al momento 715. E si riduce anche il numero delle persone in isolamento a casa perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, e quello delle persone isolate sì, ma anche sottoposte a sorveglianza attiva per avere avuto contatti stretti con casi positivi. Buone notizie arrivano dalla RSA di Comeana. Dopo che il coronavirus ha ucciso sei anziani e ne ha contagiati altri 9 insieme a 14 operatori, proprio oggi si è concluso l'intervento dell'ASL che era subentrata nella gestione degli ospiti colpiti dall'infezione. Gli ultimi 5 positivi sono stati trasferiti alla palazzina Ovest del vecchio ospedale di Prato, i cui 24 posti letto per le cure intermedie sono stati destinati a pazienti covid. Al via le operazioni di sanificazione della RSA, pronta a tornare alla normalità. Fondazione Pitigliani e Club Service Kivanis Prato, divisione 8 Toscana, hanno donato al Santo Stefano due lampade germicide per la sanificazione di strumentazioni PET, TAC e risonanza magnetica. Le lampade saranno a disposizione delle strutture di medicina nucleare e di radiologia dell'ospedale. Si tratta di due strumenti fondamentali in ambito sanitario da impiegare durante questo periodo di pandemia da covid-19 ma anche successivamente per gli alti livelli di sicurezza a tutela dei pazienti. Gli spunti per la progettazione delle lampade sono stati forniti dal dottor Stelvio Sestini, direttore facente funzione di medicina nucleare in collaborazione col dottor Luca Fedeli della struttura fisica sanitaria di Prato. E ora ascoltiamo il grido di dolore degli estetisti che non potranno riaprire fino al primo giugno per cercare di accelerare i tempi e di sensibilizzare. È partita una petizione online e viene sottolineato anche che questo tipo di lavoro avviene sempre in sicurezza. Sentiamo Alessandra Grati. Petizioni online per chiedere l'apertura dei centri estetici l'11 maggio, perché le condizioni di sicurezza ci sono. Anzi, c'erano ancora prima dell'emergenza sanitaria visto che i protocolli regionali erano già stringenti. Da qui la richiesta al sindaco Biffoni di un impegno come avvenuto per le attività manifatturiere per un pressing sul governo che anticipi la ripresa delle attività. Già sappiamo come operare in sicurezza sia per noi che per i clienti. Quindi dovremo sicuramente aumentare quello che sono dei nostri dispositivi di sicurezza individuale quindi aumentare dei plastic glass sulle postazioni delle mani aumentare dei plastic glass sui desk per il pagamento usare delle visiere protettive in più ma noi siamo pronte perché basta che ci diano queste norme e quindi che siano regolamentizzate e noi siamo pronte per riaprire. Dal 10 marzo i centri estetici sono chiusi ma bollette e affitti vanno pagati lo stesso. Noi siamo al limite, siamo al limite. Cioè le strade da percorrere non sono poi così tante. Sono due, o lo Stato ci aiuta e mi sembra che non ce la farà o ci danno la possibilità di riaprire per lavorare. Ci sono attività come la mia che comunque lavoriamo con i finanziamenti se mi devo avvicinare all'istituto bancario chiedere altri soldi per fare cosa? Indebitarvi su un debito pur non lavorando e io quelle rate di finanziamenti con cosa me li pago? In questo quadro di difficoltà si aggiunge anche il fenomeno dell'abusivismo. Le nostre clienti continuano a mandarci, a sostenerci sui social, sul whatsapp, per telefono che vogliano venire a casa addirittura a farsi fare l'epilazione a farsi fare la pedicure, la manicure e noi che comunque abbiamo un'etica professionale ci stiamo rifiutando. Purtroppo non succede per tante altre. Sarà pubblicato domani 30 aprile sul sito web del Comune il bando pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di affitto conseguente all'emergenza Covid-19 fino a esaurimento delle risorse disponibili stanziate dalla Regione Toscana pari a 246 mila euro. Le domande per il contributo straordinario potranno essere presentate fino al 19 maggio esclusivamente compilando il modulo online secondo la procedura indicata sul sito del Comune di Prato. La graduatoria non va in ordine di presentazione quindi non c'è bisogno di accalcarsi domani. I finanzieri del Comando Provinciale di Prato hanno organizzato una sottoscrizione interna su base volontaria a favore delle famiglie che stanno vivendo momenti di grave difficoltà economica anche a causa dell'emergenza sanitaria. Grazie a questa raccolta è stato possibile acquistare 700 pacchi da un chilo di zucchero e altrettanti 700 di farina oltre 600 scatole di tonno sott'olio 60 chili di caffè e 6.100 monoporzioni di biscotti. Nella giornata di oggi tale merce è stata consegnata all'Emporio della Solidarietà gestito dalla Caritas di Prato. Prodotti che saranno sicuramente utilissimi perché proprio all'Emporio della Solidarietà si registra un boom di tessere un boom di persone che hanno bisogno probabilmente è l'ondata che viene, arriva e conseguente all'emergenza economica legata a quella sanitaria. Sentiamo Alessandra Grati. L'emergenza sanitaria sta diventando anche un'emergenza sociale ed economica. Dopo il boom di richieste di buone spese e di casse integrazioni anche dall'Emporio della Solidarietà arriva la conferma. Le tessere per fare la spesa sono aumentate del 32,6% raggiungendo quota 1260 in una sola settimana. Numeri che rappresentano famiglie in grave difficoltà. Per qualcuno ha un ritorno dopo che era riuscita a uscire dall'emergenza. Per altri invece si tratta della prima volta. Nel 2019 abbiamo servito ben 1653 famiglie che corrispondono a circa 6.000 persone di componenti familiari che erano il 3,2% in meno di quelle dell'anno precedente del 2018 e addirittura gli italiani erano passati dal 55% al 49%. Quella che era una media di tessere presenti ogni settimana di 950-960 famiglie del 2019 questa settimana siamo a 1.260. Un circolo virtuoso che ha bisogno di essere sostenuto. Servono alimenti per continuare a riempire gli scaffali. Da qui l'appello a donare tramite bonifico. Intanto gli enti sostenitori del progetto continuano a fare la loro parte. Il Comune assicura un contributo anno di 50.000 euro. La Fondazione Cassa di Risparmio mette a disposizione 70.000 euro. La provincia garantisce incomodato gratuito gli ambienti di via del seminario. Mentre la Diocesi attraverso la Caritas dà un contributo annuale di 20.000 euro e cura la gestione ordinaria del progetto e l'approvvigionamento delle merci. Ed è tutto, vi ringrazio per averci seguito. Buona serata.